Assessore allo sport Carlo Masci, oggi presentate il trofeo Matteotti, che cosa rappresenta per lo sport regionale? Sicuramente la storia del ciclismo abruzzese, perché questa è una classica che parte dal 1945, è una classica che è nata dopo la guerra per lanciare un segnale di speranza, un segnale di sguardo chiaro al futuro e ancora oggi dopo 67 edizioni il trofeo Matteotti è un punto focale della nostra attività sportiva e quindi la regione non può non partecipare e partecipa attivamente a questo evento che è non soltanto un evento sportivo ma un evento di costume perché muove un'organizzazione tale per cui c'è aggregazione, c'è socializzazione, c'è partecipazione attiva di tutto un territorio che si muove attraverso questo tormentone di ruote che attraversa le città e sicuramente fa vivere un momento di grande entusiasmo a tutti i partecipanti. Quindi queste iniziative benvengano, la regione le sostiene, le sostiene in maniera particolare soprattutto se pensiamo che il trofeo Matteotti qualche anno fa ha avuto grandi difficoltà invece oggi è tornato agli antichi fasti tant'è che l'anno prossimo si propone per essere appuntamento classico del campionato italiano di ciclismo quindi sicuramente una tappa importantissima e noi siamo fieri e orgogliosi di presentarlo in regione ringraziando l'associazione Perna e Ricci che sicuramente muovono questa classica che oramai è una classica italiana.